torniamo un attimo invece sul piano personale a chi ti ispiri come portiere filippo guarda io sinceramente non ho mai avuto una un'ispirazione verso un portiere in particolare io cerco quando guardo le partite o gli highlights di cercare di capire gli altri portieri soprattutto quali ovviamente grandi il modo che hanno di fare certo di compiere certe parate di leggere certe situazioni cerco di studiarli bene per cercare di poi di riportarlo io sul campo quelli che fanno poi se ti dico due portieri che a me piacciono molto per motivi diversi sono uno è consigli che comunque penso sia uno dei portieri più sottovalutati che c'è in serie a e un altro invece romero l'ex portiere della sampdoria diciamo loro due poi dopo ovviamente c'è neuer che portiere straordinario buffon andanovic ma te ne potrei dire tantissimi però loro due sono quelli che mi piacciono di più ecco si parla in questo momento molto di mirante portiere del bologna addirittura c'è chi lo consiglia ad antonio conte per la nazionale sì mirante penso sia un altro portiere importantissimo che da anni che sta che sta facendo grandi cose in serie a parma a bologna e ma l'italia secondo me piena c'ha tanti portieri bravi guardate consigli stesso padelli marchetti più tutti i ragazzi giovani come per inle alibardi colombi penso che comunque l'italia sta dimostrando che portieri ci sono per sei mesi nella primavera del mina dalla primavera del milan sei stato chiamato nel milan perché maggiore perché abbiati si era infortunato si è stato sei mesi con ancelotti allenatore e a contatto con tiago silva in zaghi sedorf nesta e anche beckham c'era anche il divo il divo becca sì sì no era stata un'esperienza fantastica che io non avevo ancora 18 anni e mi ero ritrovato purtroppo per l'infortunio di christian con la prima squadra e comunque ho fatto la seconda parte di stagione con loro ed è stato bellissimo infatti io ringrazierò sempre il milan perché mi ha formato come giocatore come persona e mi ha fatto vivere comunque delle esperienze ottime bellissime e quello è stato l'ultimo grande milan insomma se vogliamo no no c'è stato anche quello di allegri che ha vinto uno scudetto insomma siamo comunque tiago silva più o meno l'ultimo grande milan con l'ultima generazione di grande milan e tu però non sei tifoso del milan sei tifoso dell'atalanta essendo di bergamo qual è stata l'atalanta più bella della tua infanzia o fanciullezza che ricordi l'atalanta un'atalanta bella anche quella di quest'anno però ce ne sono state tante è stata quella che ha stravinto la serie b poi invece l'atalanta belle belle quando ero piccolino diciamo quelle di canigia di stromberg bellissime quelle lì poi noi a bergamo ancora soffriamo pensando alla coppa delle coppe a semifinale col malins dell'atalanta che era in serie b e ma non erano ancora nato però se me lo racconta mio papà se guarda i video su youtube mi viene un po la pelle d'oca senti ma quando finivate gli allenamenti con il milan di ancelotti fuori c'erano tante ragazzine ad aspettare in zaghi o beckham chi più dei due ti ricordi qualcosa del genere no guarda non so io mi ricordo comunque uscire da milanello c'era sempre tanta gente c'era sempre tanta gente comunque sai era una squadra di campioni quindi tanta gente veniva a vedere gli allenamenti tanta gente si fermava fuori a cercare i loro autografi e a proposito di ragazze tu sei felicemente fidanzato no la tua ragazza si chiama natascia si conviviamo quale c'è siamo tutte e due di bergamo però conviviamo qui a lecce doveroso chiederti chi si trova a parte la squadra del lecce come vi trovate chi si trova meglio a lecce come città ambiente salento sole mare vento e quant'altro no ma io sono fortunatissimo ad avere trovato un gruppo così bello con tanti ragazzi che c'erano già due anni fa quindi sai anche noi con le fidanzate con le mogli ci troviamo comunque spesso passiamo del tempo insieme comunque un gruppo veramente affietato veramente fantastico e penso che questa sia un'arma in più con la tua ragazza hai un tipo di rapporto paritario oppure tu sei il calciatore e lei è la tua ragazza no no paritario anzi io lavo i piatti e lei lei mi dice quello che devo fare quindi nove dai scherzi a parte no assolutamente rapporto paritario io penso che noi prima di essere giocatori siamo comunque persone come come tutti gli altri quindi ci mancherebbe e poi dopo comunque quando sei a casa cerchi anche di di non portare troppo ecco lavoro il lavoro in casa e quindi sei poi costretto a dover lavare i piatti ecco la musica che ami ma tanto dai mi piace piace tutto mi piace di più poi il hip hop il rap dai un po però un po tutto discoteca o teatro filippo discoteca però ti dico più ristorante con un po di dopo cena dai senza esagerare bar alla celentano maniera o pub pub all'inglese tu sei bilancia perché sei nato ad ottobre un segno di armonia di equità di modo disincantato di vedere la vita qual è un pregio che ti riconosci come carattere di di essere comunque una persona solare e comunque anche che cerca sempre di vedere il meglio nelle cose ecco bene abbiamo due minuti chiudiamo ancora con il lecce adesso c'è un trittico niente male andrea trasferta poi partita in casa con la juve stabia e poi la trasfertona a caserta tre partite non decisive ma tre prove difficilissime sì sicuramente sono partite difficili perché giochiamo contro squadre comunque attrezzate importanti e e servirà comunque come sempre che diamo tutto noi stessi e cercare anche di dare che quel qualcosina in più per poter per poter portarceli a casa queste partite perché comunque io vedo i miei compagni tutti i giorni in allenamento so come si allenano so quello che che danno per questa maglia e siamo una squadra che comunque ha fame a voglia di risultati e cercheremo comunque di andare sia ad andria sia in casa colui vestabia sia caserta per imporre il nostro gioco e per fare il risultato pensa filippo oggi è stato ricordato da qualche giornale nel 93 quando il lecce vinse il campionato con i ragazzi terribili di bruno bolchi allenati da bruno bolchi la rinascita lo sprint nacque da una vittoria ad andria per 3 a 2 segno orlandini che poi ha giocato nel milan e nell'inter ecco segno lui il gol del 3 a 2 ma io ricordo quella partita che tra l'altro commenta in diretta per una nota emittente il lecce gioco con grande voglia di farcela con grande voglia di farcela la società di allora e l'allenatore pretendevano che i giocatori fossero 11 guerrieri e quello che probabilmente dovrete fare voi domenica sì 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 assolutamente ci vuole sempre come detto prima con la con la cattiviera e con la fame e con la voglia di andare di andarsela a prendere la vittoria su tutti i campi di andare contro chiunque si gioca cercare di imporre il nostro gioco perché comunque siamo una squadra a mio punto di vista ottimo per la categoria io comunque mi guardo nello spogliatoio e vedo comunque sempre gente che ha tantissima esperienza in serie a in serie b in serie c quindi penso che abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela e cercheremo sempre di dare il massimo e di giocarci la partita per partita chi è l'amico con cui è legato di più o leghi di più nel gruppo del lecce in questo momento guarda io come ho detto prima un gruppo fantastico quindi fortunatamente poi anche un po per carattere mio leggo sempre leggo sempre con tutti poi ti dico comunque in ritiro sia sempre in camera con con dubbià che eravamo già qua due anni fa insieme che abbiamo un bellissimo rapporto ma comunque rapporto è bellissimo con tutti e niente poi ero molto amico anche di di lobue che adesso poi è andato via però rapporto è bello ma tutti nello spogliatoio abbiamo un rapporto veramente bello anzi come ho detto prima poi ci organizziamo sempre anche per per trovarci magari mangiare insieme con mogli fidanzate tutto e questo sicuramente una cosa bellissima e la società rinforzerà ancora la squadra sono in arrivo un difensore un centrocampista e forse ancora un altro attaccante se di hop dovesse effettivamente partire come sembra ti senti di fare una promessa personale non di squadra perché personale ai tifosi che ti guardano in questo momento sicuramente io quello che posso promettere è il massimo impegno la massima voglia la massima grinta in ogni partita ma quello che comunque ho sempre cercato di fare e che abbiamo sempre tutti cercato di fare ecco quello che che voglio io pesca la mattia poi meglio non dire niente però quello che prometto è sicuramente il massimo impegno da parte mia e di tutti ancora di più e chiudiamo proprio alla sonetti e con tanta belvaggine con tanta belvaggine grazie a voi